ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'invictus podcast io come sempre sono il vostro host nicolò liani siamo giunti al quarantesimo episodio e quindi come di consueto abbiamo la nostra edizione in stile q a e sono in compagnia con andrea biasci quindi grazie mille andre di essere nuovamente in compagnia qui con me sul canale grazie a tutti gli ascoltatori anzi buonasera londra perfetto allora noi come di consueto abbiamo qualche giorno fa lanciato un sondaggio e abbiamo raccolto un pochino di domande vediamo di dare risposta a quelle che riputiamo entrambi un po più interessanti e quindi senza insomma dilungarci eccessivamente procediamo con la prima che la prima domanda è molto interessante c'è stata posta da andrea andrea ci chiede ragionando su una logica che un atleta più diventa avanzato e più tendenzialmente ha bisogno di certo una certa mole di volume allenante per poter progredire a livello di ipertrofia muscolare secondo voi e quindi seguendo questo questo pensiero questo filone logico è vero che più un atleta diventa avanzato e più effettivamente la sua richiesta di volume sale nel tempo oppure no perché da quello che ci scrive andrea sente un po pareri discordanti in tal senso quindi vola sapere un po la nostra opinione in merito vuoi iniziare tu ma sì provo a dire modestamente la mia riportando anch'io i pareri e quindi nel senso faccio un po un punto di quello che sento e ci sono pareri discordanti perché è vero più uno diventa avanzato più teoricamente bisogno di volume ma è anche vero che più si avvicina al suo più potenziale più è a una capacità di spremersi e quindi comunque il volume che fa teoricamente sapendosi allenare sempre meglio è sempre meno volume a vuoto volume spazzatura è sempre più volume di qualità e quindi fare troppo non è non è neanche l'ideale perché se tu fai come dire la giusta intensità più di tanto volume non non lo riesci non lo riesce a gestire è vero no no lui è massa fa tanto volume è anche vero che da una parte diciamo che l'intensità di carico arrivati a un certo livello difficilmente riesce a crescere in modo rilevante quindi nel momento in cui io faccio sparo 125 kg di panca e sono già un atleta avanzato non è che a fine anno farò 135 kg di panca se ho guadagnato 5 kg su un'alzata è grasso che cola dall'altra parte invece il volume è una capacità condizionale che riesce ad avere degli adattamenti molto maggiori rispetto per esempio l'intensità e quindi la possibilità dove un atleta non ha più di progredire sull'intensità ce l'ha ancora magari dal punto di vista invece del volume e quindi è sempre un rapporto io credo che arrivati a un certo livello si distinguono atleti che riescono a sottoportare un buon volume allenante e noi abbiamo degli esempi non so stefano travaglini è uno che fa tantissimo volume lo stesso massimo brunaccioni è uno che che fa tanto volume e ho un daniele gelmi che si allena adesso qua al nostro centro che un altro ragazzo che fa tanto volume o altri soggetti che invece una volta che sono avanzati si sono resi conto che rendono di più addirittura magari riducendo il volume rispetto a quando erano in intermedi ma lavorando tanto tanto sull'intensità percepita io credo che si sentano pareri discordanti perché arrivati a un certo livello a seconda delle proprie caratteristiche fisiche se la persona risponde meglio da una parte o meglio dall'altra si va in una direzione con più volume o si va una direzione con allenamenti con meno volume più ma più tra virgolette qualitativi dicendo questa l'ultima cosa che non estremizzare sempre le due cose non porta mai al miglior risultato quindi nel senso che uno si trovi meglio col volume o meglio con l'intensità comunque non vale mai la pena di puntare soltanto su uno di questi due parametri ma in un contesto di periodizzazione comunque ci dovrebbe essere sempre un rapporto e uno shift tra i due proprio per variare gli stimoli sì secondo me è molto una questione di genetica della persona nel senso che tu hai riportato esempi secondo me di atleti che vuoi per comunque caratteristiche genetiche vuoi anche per uno stile di vita molto incentrato su la disciplina sull'allenamento sul bodybuilding riescono comunque a curare anche tutti gli altri aspetti extra palestra che magari altre persone vuoi per un discorso lavorativo vuoi per un discorso di vita 360 gradi il volume sappiamo che è anche condizionato molto da altri fattori magari alle volte nemmeno sotto il nostro stretto controllo quindi diciamo che dal mio punto di vista per quella che è la mia esperienza quello che posso dire è che il volume non è una variabile che tu puoi progredirci all'infinito cioè quelli che dicono che è vero qualcuno si può adattare al volume quindi se tu non adatti il corpo a lavorare sempre a volume crescente questo qua cioè diciamo non avrai mai la possibilità di poter sperimentare nemmeno quanto effettivamente puoi spingere il tuo corpo verso l'alto volume c'è anche il discorso e questa infatti è una domanda che ci era stata posta e probabilmente successivamente a questa ci allacciamo a quello del che è il discorso del volume a vuoto del volume spazzatore che tu avevi già accennato all'inizio della risposta comunque al di là di ciò noi sappiamo che tendenzialmente di tutte le variabili che abbiamo a nostra disposizione il volume è anche quella che tende a darci un accumulo di fatica maggiore in acuto prendiamo un esempio aumentare da tre a quattro serie allenanti piuttosto che aumentare di qualche ripetizione sul singolo esercizio ti dà sì uno stimolo in percentuale maggiore ma ti dà anche un accumulo di fatica in percentuale maggiore secondo me il giochino sta sempre nel capire questo rapporto fra stimolo e fatica e questo però è dettato molto dalla soggettività della persona come ti dicevo secondo me anche molto dagli stressor esterni che ha con cui ha con cui si deve interfacciare oltre ovviamente al contesto calorico in cui si trova e detto ciò sì aspetta perché sennò poi magari vai anche su un altro tema invece volevo approfondire questo concetto qua io vedo anche di diversi coach americani che loro fanno progredire per esempio sulle ripetizioni e non sulle serie e è anche vero che uno lo può fare se nelle prime settimane sta lavorando con un buffer di un certo tipo perché se la persona prova a fare tirato alla morte un 3x8 e la settimana dopo prova a fare un 3x9 si accorgerà che se quel 3x8 era tirato il 3x9 non lo riesce sicuramente a chiudere a meno che non era un novizio un intermedio e semplicemente di settimana in settimana può progredire al contrario passare da un 3x8 a un 4x8 dilungando magari i tempi di recupero tra le serie è una cosa che si riesce molto molto più facilmente quindi è vero che il volume è quello che stressa di più perché quello che poi aumenta di più il tonnellaggio però quando si parla che il corpo riesce a fare degli adattamenti più facili sul volume è perché se noi arriviamo al limite con le ripetizioni se abbiamo già un certo livello la settimana dopo quelle ripetizioni lì non potranno aumentare mentre spararci una serie magari non da otto ripetizioni ma da sei ti permette comunque ancora di generare via via più volume e aumentando la progressione poi ti stressa di più proprio perché hai aumentato la progressione io su vedendo anche per esempio in altri sport le progressioni sulle ripetizioni le vedo fattibili soprattutto se decidi di programmare il tuo mesociclo partendo leggero nelle prime settimane per poi via via salire ma quando tu sei al limite sulle ripetizioni io la vedo tra virgolette impossibile la settimana dopo fare una ripetizione in più questo è per me poi magari tu dici no guarda dalla mia esperienza non è così e mi contraddici però così sull'atleta avanzato tendenzialmente così magari io posso programmare anche su un esercizio metti caso che c'è tre quattro serie magari non fargli fa non farlo passare da 4 per 10 a 4 per 11 a tutte le serie magari farlo passare a 4 per non so 11 11 10 10 11 11 11 10 cioè proprio step molto graduali è anche vero sempre rimanendo sul discorso del volume che l'atleta avanzato comunque raggiunto un livello di fitness tale per cui ha comunque l'esigenza di utilizzare anche determinati carichi noi sappiamo che comunque fare per esempio una una leg press un 3 per 10 di leg press con 300 kg farlo con 500 ha un impatto a livello sistemico molto differente quindi l'atleta avanzato riesce comunque anche con diciamo un quantitativo di lavoro in proporzione minore a genere a generare uno stimolo molto più grande quindi il fatto che a priori debba fare chissà quanto più volume rispetto a una persona meno avanzata non è sempre detto perché comunque devi anche tenere in considerazione proprio questo fattore qua cioè il fatto che lui già dal diciamo ogni ripetizione di ogni serie che fa riesce a generare uno stimolo molto 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 importante e quindi bisogna bisogna anche sempre vedere il discorso della tolleranza al volume alla fatica e io almeno nella mia ancora breve esperienza però da quello che ho visto è molto soggettivo cioè non possiamo dare secondo me delle linee guida troppo specifiche perché poi bisogna vedere lì bisogna testarlo secondo me proprio ad personam ecco possiamo fare delle considerazioni generali sono assolutamente sono assolutamente d'accordo mi veniva in mente per esempio alcuni campioni di powerlifting ora stiamo parlando di un'altra disciplina nessuno vuole paragonare il bodybuilder al powerlifter per carità però nel senso ci sono programmi di powerlifting con tantissimo volume a buffer e ci sono campioni che allenandosi in questo modo vincono mondiali e ci sono campioni che fanno pochissimo volume con altissime intensità e questo gli permette di abbassare drasticamente il volume comunque ricordiamoci sempre che volume intensità sono inversamente proporzionali chi pensa di fare cioè nel senso di ogni tanto nei commenti quando dico sta cosa c'è qualcuno che mi dice è no non è vero questo lo sostenite allora se c'è qualcuno che è convinto di fare altissimi volumi con altissime intensità secondo me non si rende conto che il cedimento che lui sta facendo è un cedimento mentale non è un cedimento fisico nel senso fisiologicamente il maratoneta per quanto agli altissimi livelli abbia delle velocità assurde non può ottenere l'intensità del centometrista nel senso più prolunghi un'attività più lavoro fai e per forza cioè nel senso l'intensità è proporzionale alla durata nel senso più è breve e più intensamente uno si può spremere questo è quanto quindi secondo me anche qui nel senso noi parliamo sempre di intensità bisognerebbe capire se parliamo di intensità percepita come avviene nel bodybuilding o intensità di carico come viene calcolata nella fisiologia sportiva e molto spesso l'intensità percepita è quella mentale non quella muscolare che è un altro fattore determinante sì beh diciamo che nel bodybuilding ormai abbiamo buonissime evidenze che conviene averle entrambe nel senso che la tensione meccanica ce l'abbiamo comunque attraverso l'utilizzo di determinate resistenze e il fatto di comunque raggiungere non per forza il sedimento assoluto però avvicinarsi al sedimento per rendere la serie allenante si è visto comunque una quasi condizione sine qua non per poi dare il via agli adattamenti ipertrofici poi è vero che più il carico è basso più la richiesta di far ciò si eleva però ecco diciamo che dobbiamo avere un po tutto il quadro secondo me completo però ecco per diciamo riassumere un po la risposta poi passiamo alla successiva secondo me non possiamo dire che universalmente l'atleta avanzato ha bisogno di fare di più in termini quantitativi bisogna fondamentalmente vedere quanto la persona si può spingere in là da un punto di vista della quantità senza sacrificare la qualità del lavoro e poi da lì strada facendo uno attraverso comunque i vari mesocicli tracciando i dati vedendo comunque dove si può spingere sui vari distretti muscolari trae poi le proprie conclusioni ecco secondo me comunque dal momento che tu sei avanzato riesci con meno lavoro a dare di più e quindi non è detto che hai bisogno di fare di più anzi il fare di più magari ti va comunque accumulare troppa fatica che poi magari devi scaricare troppo velocemente nei vari mesocicli che anche quello potrebbe non convenire sappiamo che gli adattamenti ipertrofici si manifestano in tempistiche abbastanza lunghe poi più sei avanzato più queste tempistiche si dilungano avere mesocicli secondo me troppo corti non lo so potrebbe potrebbe forse convenire stare più su una soglia di diciamo volume volume effettivo allenante per più tempo nel corso del mesociclo e poi scaricare un pochino più tardi io la posso intendere così ecco però vabbè insomma tu hai qualcosa sì sì ho tre cose da aggiungere a noi adesso abbiamo parlato di volume in generale e quando secondo me forse la cosa più interessante del volume in generale è intendere che probabilmente bisognerebbe parlare di volume per ogni distretto muscolare calcolando di prestare meno attenzione a livello di volume ai distretti avanzati e più volume per i distretti carenti cioè nel senso che comunque è come dire più che partire a livelli a livello di bodybuilding più che partire a livello generale partire sulla persona di che cosa ha più bisogno e su quello concentrare più o meno lavoro più o meno frequenza e quindi noi fino adesso abbiamo fatto un discorso generale ma probabilmente ha più senso vederlo nello specifico sui vari distretti e quindi correggimi se sbaglio potremmo dire che se a livello generale il volume relativo a livello dei distretti muscolari conviene dedicare più serie per i distretti muscolari più indietro assolutamente e meno serie per quelli più più avanti e poi la seconda cosa è che a me spiace sempre io non sono un esperto di bodybuilding nel senso che non lo pratico non l'ho praticato studio la fisiologia sportiva e prendo dalle esperienze degli altri che sono powerlifter bodybuilder calisthenics eccetera eccetera un principio universale è che comunque nello sport nelle pratiche secondo me anche nel bodybuilding può avere un senso aumentare il volume per poi sacrificarlo all'altare dell'intensità quindi è vero che se noi puntiamo soltanto sul volume per troppo tempo ci dealleniamo all'intensità nel senso che atleti che sopportano enormi volumi poi li metti a fare serie intense e si cuociono subito e non riescono a esprimersi ma è anche vero che nell'ottica della programmazione converrebbe a prescindere da quanto volume uno sta facendo avere dei mesocicli dove si cerca di aumentare più questo parametro per poi nei mesocicli seguenti sacrificarlo per una maggiore intensità proprio per riuscire a superare i vari stalli nel senso che quando noi siamo avanzati cercare di aggiungere qualcosa senza sacrificarne qualcos'altro è tra virgolette un'utopia le persone smettono di progredire perché pensano che le progressioni non siano mai a discapito di qualcosa invece nel momento in cui noi raggiungiamo un certo livello possiamo progredire in alcuni parametri soltanto se ne sacrifichiamo altri quindi se noi non abbiamo un volume sufficiente per puntare su un aumento dell'intensità potrebbe convenire aumentare il volume per poi sacrificarlo questo secondo me deve essere un altro punto di riferimento perché in tutti gli sport calisthenics powerlifting corsa chi più ne ha più ne metta non esiste una pratica sportiva che non faccia questo percorso qua secondo me sarebbe una cosa da almeno testare provare poi se io vedo che nel corso degli anni tutti gli atleti di bodybuilding natural mi dicono no guarda andrea non funziona sarò il primo a dire che nel bodybuilding non è così attualmente anche all'estero non mi sembra che sia così campata in aria provare a fare questa cosa qua anche nel bodybuilding terza cosa no terza cosa a prescindere da quello che diciamo se uno si prende i parametri secondo me per prove d'errore la sua strada la trova sempre c'è ne si oggi parlavo con daniele esposito della sensibilità resistenza insulinica argomento di cui noi discutiamo sempre ma che in realtà uno non ne capisce niente e quello a cui siamo arrivati alla conclusione con daniele di dire va bene a prescindere da quello che diciamo se uno si monitora vede se sulla strada giusta oppure no quindi l'invito era di dire ok io e nicolò vi diciamo sta roba qua prendetevi due misure vedete se il vostro eccesso calorico sta portando a dei risultati oppure no corretto condivido assolutamente allora io mi diciamo rimanendo nel nel discorso del volume ci è stato anche chiesto di parlare un attimino di questo benedetto volume spazzatura junk volume cioè che cos'è e quando fondamentalmente una persona può capire effettivamente se sta facendo del volume a vuoto oppure no cioè quali sono le circostanze tali per cui possiamo avere dei segnali che appunto il volume che stiamo facendo non è più efficace vado sì vai vai vado io ok ok allora allora qua possiamo secondo me aprire tante parentesi però vedo di non essere eccessivamente prolisse andare subito al punto della questione e tendenzialmente i scenari che mi vengono in mente ce ne sono molteplici uno fra tutti è sicuramente quello in cui la persona ha già superato diciamo la soglia di del suo massimo volume recuperabile e continua a fare del lavoro quindi diciamo tutto questo lavoro extra che si sta andando fondamentalmente a generare non va più effettivamente a essere contribuente a quello che sono gli adattamenti per trofici ricercati quanto più sta sempre di più sbilanciando il rapporto fitness fatica a livello della seconda quindi quando vediamo che effettivamente non ci sono più le possibilità di avere delle progressioni effettive sul parametro volume andare a mettere roba aggiuntiva può essere solamente controproducente quando iniziamo a capire che ciò avviene quando abbiamo tutta una serie di feedback anche nel corso delle nostre sedute allenanti tali per cui diciamo ci si palesa una situazione di non recupero ottimale tra le varie sessioni all'interno della settimana quindi iniziamo magari a avere qualche dolore articolare iniziamo a non a non riuscire più a esprimere una performance degna di nota quindi la performance come abbiamo già ribadito anche in tanti altri podcast è un indice cruciale per comunque capire se effettivamente le cose stanno andando nella giusta direzione quando vediamo non che in un allenamento ma in più allenamenti magari anche concatenati la nostra performance viene notevolmente intaccata ecco che quello in aggiunta magari ha appunto questi feedback di indolenzimento più a livello anche articolare tendine non meramente muscolare magari iniziamo anche a avere feedback negativi dal punto di vista del sonno notturno tutte queste cose qua ecco che lì già una buona spia che non stiamo recuperando bene che se andiamo ad aggiungere roba fondamentalmente stiamo facendo volume a vuoto volume spazzatura anzi volume non solo spazzatura ma controproducento ok un'altra un'altra dinamica che mi viene in mente è quando effettivamente stiamo facendo tante serie ma che non raggiungono un certo grado di effort nel senso che noi continuiamo a fare volume ma queste serie non le riusciamo a portare a un grado di cedimento sufficientemente elevato per dare il via a comunque una risposta a livello di sintesi proteica e di tutti quei segnalatori che poi ci portano effettivamente ad indurre gli adattamenti ipertrofici ricercati e quindi noi magari calcoliamo un tonnellaggio che però non è diciamo un tonnellaggio qualitativo noi sappiamo ormai anche dalla letteratura scientifica che per considerare comunque una serie allenante noi parliamo di volume allenante perché perché deve essere prodotto attraverso comunque degli stimoli che si avvicinano quanto più al cedimento se ci interfacciamo a un discorso di rear o di reps in reserve sappiamo che tutte quelle serie che per lo che non soddisfano almeno un requisito base del raggiungere quattro o meno ripetizioni prima del cedimento non dovrebbero essere conteggiati idealmente nel nostro volume allenante quindi va bene magari fare delle serie di avvicinamento al carico allenante che quelle possono non essere ovviamente diciamo produttive stimolanti per l'ipertrofia ma ci devono solo servire per poi interfacciarci alle nostre serie allenanti però le serie allenanti devono necessariamente soddisfare questo requisito ecco il volume a vuoto è quando la persona non riesce effettivamente a generare uno stimolo allenante dalle proprie serie passo la palla a te se hai qualcosa altro da aggiungere intanto magari ci penso allora faccio faccio un esempio pratico nel senso ammettiamo che una persona a 10 trazioni alla sbarra come massimale quindi la prendo lontana ogni tanto qualcuno ci scrive su instagram o x trazioni come posso fare a migliorare allora finché parliamo con dei risultati come 10 trazioni alla sbarra per migliorare le 10 trazioni alla sbarra devi fare mediamente 70 80 trazioni come minimo a settimana ora con questo volume a prescindere dallo schema che stai utilizzando poi ovviamente se fai serie da una ripetizione a poco senso però mediamente quello che si è visto è che è sufficiente un certo volume su una determinata prova per sortire un effetto e migliorare il massimo numero di ripetizioni o addirittura anche il massimale quindi il volume ha un impatto diretto sulla sulla performance sia di forza massimale e questi sono i programmi dei powerlifter che lavorano a buffer con altissimi volumi sia sul numero delle ripetizioni quindi io ho le mie le mie 10 ripetizioni faccio 80 90 trazioni a settimana e in diversi schemi semplicemente il fatto di farle mi porta a migliorare il problema che cosa succede succede che poi le persone ci prendono la mano e dicono ah ok allora sei 80 90 ripetizioni mi fanno migliorare ne faccio 100 ne faccio 120 ne faccio ci allora incominciano a macinare volume su volume su volume a un certo punto che cosa ci si rende conto che è vero che il volume ha un effetto diretto sulla performance ma è anche vero che aumentare il volume in modo spropositato a un certo punto non sortisce più lo stesso effetto cioè nel senso che si vede che la persona riesce via via sempre più a fare volume ma questo volume non ha nessun transfer sulla prova massimale e questo dal mio punto di vista è un volume a vuoto cioè nel senso il fare più volume ti ha migliorato nella serie target che fosse il tuo massimale che fosse il tuo oppure non c'è stato nessun transfer e quindi io questa cosa l'ho presa dal calisthenics perché appunto nel calisthenics si vede direttamente che se tu hai 20 le trazioni con 20 kg di sovraccarico fai x ripetizioni allora incominci a macinare più volume possibile con quel carico un certo volume a un certo transfer di più ti fa migliorare nel volume ma non ti fa migliorare nella prova massimale e secondo me questo è un indicatore carino sul sito del project invictus e trovate un programma per principianti nel calisthenics che si basa proprio su questo principio qua nel senso le persone che lo fanno ci scrivono che all'inizio migliorano poi quelli che non aumentano l'intensità ma vanno avanti via 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 nei mesocicli continuando aumentare il volume stallano perché il corpo si è specializzato nel volume ma ha perso la sua capacità di rispondere all'intensità e quindi la specializzazione di solo volume non ripaga perché tu ottimizzi il tuo corpo a sopportare via via sempre più tonnellaggio ma appena fai ed era un po quello che succedeva per esempio nel basket siccome una partita di basket dura 40 minuti allenarsi su 60 minuti 80 minuti poi ti permetteva quando facevi la partita siccome eri abituato a giocare per più tempo a essere più performante in quei 40 minuti invece poi ci si è resi conto che non c'era transfer perché tutti alle navi a essere più resistente ma non a essere più intensamente performante nel tempo target e la stessa cosa avviene anche con i nostri con i nostri allenamenti in palestra il volume la resistenza al volume diventa volume a vuoto quando non ha nessun transfer sull'intensità questo è secondo me un po la relazione che c'è col volume a vuoto un'altra cosa interessante mi allaccio al discorso anche della frequenza di allenamento perché adesso viene anche ormai da tempo consigliato una multifrequenza di scapito di una monofrequenza anche per un po questo discorso qua cioè evitare di mettere nella singola sessione troppo volume per un distretto muscolare cioè se io so che devo fare tutto il volume settimanale di un determinato distretto muscolare in una singola seduta magari mi ritrovo a dover fare tante tante serie nella singola seduta arriva un certo punto dove inizia a tirare via al lavoro perché comunque un accumulo di fatica sia sistemica che locale sul distretto target inizia a prendere meno da un punto di vista performante quindi via via mi sbilanzo sempre di più su insomma sul generale volume volume a vuoto junk volume volume spazzatore infatti quello di riuscire a dilazionare il volume in più istanze nel corso della settimana è anche molto vantazzoso da questo punto di vista quindi potremmo anche fare questa considerazione ecco ti chiedo faccio io una domanda te secondo te oggi ancora senso la multifrequenza la monofrequenza secondo me ha senso per tutti quei distretti che effettivamente o per abilità abilità chiamiamole chiamiamolo sviluppo genetico preferenziale oppure alcuni distretti in cui il soggetto effettivamente si rende conto di avere un massimo volume recuperabile molto basso a quel punto lì ha senso cioè se io per esempio voglio o anche ho un blocco di specializzazione per un determinato distretto muscolare o due o tre e voglio volutamente mettere gli altri in mantenimento magari a otto a sei otto serie allenanti a quel punto lì si può avere senso in alcuni contesti secondo me può avere senso in linea generale ormai sappiamo che comunque la multifrequenza è molto più vantaggiosa soprattutto sul lungo termine poi ecco altro discorso potrebbe essere quello del neofita ma il neofita se è vero che può giovare della monofrequenza è anche vero che gli conviene allenare però lo stesso schema motorio più volte nel corso della settimana per imparare meglio quindi alla fine gli conviene farla multifrequenza cioè se è vero che ha un un ampio margine di migliorare anche con volumi bassi però dall'altro canto gli conviene specializzarsi nel senso di ripetere più volte gli stessi esercizi gli conviene comunque allenarsi in multifrequenza ok allora facciamo un'altra domanda questa è molto secondo me interessante non ne ho sentito parlare quasi da nessuno se la chiede Gaetano Gaetano ci chiede se è vero che io quando sono in ipocalorica ho una capacità di recuperare dal volume insomma dal volume dei parametri allenanti in toto minore potrebbe avere senso concentrarsi solo e soltanto sugli esercizi composti multi articolari e scremare tutta quella parte di esercizi complementari accessori uno perché non ha non diciamo non ricerco più un aumento dell'ipertrofia muscolare quanto più mantenimento sappiamo che per mantenere l'ipertrofia muscolare è comunque importante si garantire un certo tipo di volume ma anche un certo grado di stimolo meccanico di levare gli esercizi accessori potrebbe fungere da o comunque minimizzarli magari non levarli in toto ma minimizzarli potrebbe fungere da aiuto nel non accumulare troppa fatica extra che comunque non sarebbe chissà quanto produttiva tu come come la vedi questa strategia allora io la vedo fortemente soggettiva ma penso che potrebbe funzionare benissimo anche l'opposto nel senso togliere grandi multi articolari e concentrarsi su quelli che a livello sistemico impattano meno nel senso perché è vero che i grandi multi articolari hanno più carico ma è anche vero che questo carico e soprattutto a livello sistemico a livello dei singoli distretti muscolari non è detto che ci sia così più tensione e soprattutto non è detto che ci sia così più tensione in tutto il range del movimento per cui magari il pettorale c'ha un range nell'esercizio multi articolare dove ha tantissima tensione ma appena si sposti da quel range viene subito preso dal deltoide anteriore dal tricipite quindi la tensione meccanica è sempre relativa alle fibre muscolari e le fibre muscolari possono avere un'altra tensione meccanica anche in esercizio di isolamento nel senso anche con basso carico se la leva articolare particolarmente svantaggiosa eccetera 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 quindi io vedo tanta gente che invece fa esattamente l'opposto abbassa gli esercizi multi articolari in in ipocalorica proprio perché a livello sistemico stressano tanto e da più agio agli esercizi complementari di isolamento che comunque se fatti bene generano una buona tensione sul muscolo target senza faticare a livello sistemico non sto dicendo che questa sia la strada migliore però sto dicendo che è una coperta corta e se ti trovi bene con i multi articolari non ci vuoi rinunciare può avere può avere un senso ma potrebbe avere un senso anche la strategia completamente opposta sì secondo me il discorso è questo qua non ha tutta sta valenza ragionare per estremi io dal passaggio diciamo da fine fase di massa di costruzione a fase di cutting bene o male la split di allenamento la mantengo quanto più invariata eventualmente inizio poi pian pianino nel corso dell'ipocalorica rivedere i parametri allenanti il volume il quantitativo però diciamo di per sé gli esercizi laddove non ci siano problemi particolari li mantengo li mantengo relativamente invariati poi se in corso di ipocalorica il soggetto inizia a palesare magari difficoltà o a livello prestativo o a livello di feedback soggettivi quindi difficoltà proprio magari nell'esecuzione o comunque si sente molto più affaticato nel fare un determinato esercizio dove prima magari si sentiva meno a quel punto all'inizio magari a ragionare su un eventuale dirottamento del volume attraverso un altro un altro esercizio però ecco io bene o male la ragiono così come dici tu potrebbe alla fine convenire anche levare molto il lavoro da dagli esercizi che tassano di più a livello a livello sistemico e concentrarsi maggiormente su quelli comunque complementari accessori che è vero che hanno una tensione meccanica globale inferiore però noi quello che ci interessa come detto tu è la tensione meccanica alla fine che arriva sul musco sulle fibre del muscolo tanti quindi come sempre più strade possono portare a roma ecco diciamo così alla fine io volevo dare solo questo spunto perché quello che vedo fare da tanti pro un e bf in italia ma anche all'estero e prima di dire il cosa la mia riflessione è che comunque tra virgolette il natural bodybuilding è uno sport giovane e ogni anno leggo nuove cose che la gente testa quindi nel senso a me fa ridere quando leggo in giro a ma queste cose si sapevano da vent'anni no nel senso si è iniziato a prendere i dati e a testare realmente su soggetti natural da pochissimo tempo e ci sono tantissime cose che noi non sappiamo e che attualmente stiamo provando e soltanto dopo che le avremo provate per tempi medio lunghi sapremo se sono delle scelte ottimali oppure no quindi il fatto che molto spesso non si riesca a dare delle risposte è dato dal fatto che dati su soggetti natural con un campione di soggetti abbastanza ampio attualmente non ce l'abbiamo quindi nel senso pensare che il bodybuilding è tutto uguale che queste cose si facevano secondo me è non avere un attimo le misure i dati e basarsi più se propri bias e le proprie convinzioni che su quello che viene dai numeri sul campo io quello che vedevo è che tanti pro attualmente fanno una fase di massa e una fase di definizione che è molto vicino ovvero non è che in fase di massa stanno con un surplus energetico chissà quanto ampio sicuramente inferiore alle 300 calorie e durante la fase di definizione nel momento in cui non hanno guadagnato tantissimo grasso ma hanno già una bf per loro per il loro settling point comunque fisiologica ma comunque molto molto bassa durante la fase di definizione non tagliano tantissimo le calorie questo gli permette di non è da avere questi sbalzi energetici e durante la fase di definizione muoiono perché comunque erano partiti molto molto puliti e il taglio calorico è molto vicino al tb e e quindi da questo punto di vista durante l'anno si concentrano molto di più sulla programmazione in palestra facendo sì che sia la programmazione dell'allenamento il fattore chiave rispetto alla dieta che non varia così tanto da una fase all'altra questo è sicuramente un approccio che sto vedendo nell'ultimo periodo che in tanti stanno testando poi se sarà una strada che nel tempo si rivelerà più vantaggiosa lo vedremo attualmente io vedo per esempio massimo brunaccioni sta facendo questa strada qua anche una giulia menis cioè tanti pro vnbf in italia non variano così tanto a seconda se sia in massa o in cat tu che ne pensi beh vai comunque con una strategia del genere beh innanzitutto ne penso che per esempio massimo brunaccioni già un atleta che è talmente avanzato che comunque non è che può auspicare a chissà quanti guadagni extra e quindi magari per lui fare una cosa di questo tipo è anche vantaggioso perché comunque volendo gareggiare se non tutti gli anni quasi anche il tempo che dopo si dovrà mettere in preparazione per raggiungere la condizione top per andare sul palco è molto più corto quindi alla fine gli conviene anzi se prendesse tanto peso in più dovrebbe stare molto cioè comunque dovrebbe fare un'ipocalorica più prolungata a quel punto lì magari quell'extra che si è guadagnato quel minimo extra che forse si è guadagnato dal fatto di aver preso un pochino più di peso magari lo perde perché deve stare in ipocalorica per più tempo diciamo che secondo me dipende molto anche da quanto è avanzato il soggetto e quanto margine gli rimane da un punto di vista di sviluppo poi di guadagni ipertrofico di sviluppo muscolare ecco sì sì ecco nel senso il punto è questo nel senso io parlavo appunto di pro vnbf il muscolo ha una certa capacità di captare i nutrienti oltre quella tutto l'eccesso calorico che noi gli diamo non va a finire nel muscolo un atleta avanzato non è cioè se già mette un chilo in un anno è grasso che cola quindi l'eccesso energetico non può essere chissà quanto proprio perché non c'è la possibilità di aumentare la massa contrattile se non di poco esatto ok io direi di fare l'ultima domanda poi chiudiamo rapidamente allora francesco ci chiede ultimamente anche vari esperti del settore ultrassiano stanno stanno parlando di partizionamento nutrizionale e stanno un po sdoganando il vecchio mito del fatto che più l'atleta ha una percentuale di grasso corporeo bassa e più tendenzialmente a una sensibilità sensibilità insulinica elevata e quindi è più propenso a mettere su diciamo cioè ad avere un partizionamento nutrizionale più favorevole verso il muscolo e meno verso verso il grasso voi cosa ne pensate qual è la vostra qual è il vostro pensiero in merito chi parla io ho letto un articolo di elms recente che criticava appunto questa posizione qua e condivido abbastanza cioè o meglio secondo me il problema che noi parliamo sempre del di cose che non si possono misurare quindi è un po come parlare del sesso degli angeli perché anche qui quando parliamo di sensibilità insulinica innanzitutto dovremmo dire che la sensibilità insulinica è tessuto specifica quindi probabilmente noi stiamo parlando di sensibilità insulinica muscolare e poi c'è una sensibilità insulinica dipocitaria la dipocita più si rimpicciolisce più migliora anche lui la sua sensibilità insulinica c'è una sensibilità insulina epatica c'è nel senso la sensibilità insulinica del nostro organismo è tessuto dipendente bisognerà c'è sempre il rapporto fra la sensibilità del muscolo e degli adipociti quello che ci interessa maggiormente non la sensibilità insulinica generale perché si aumenta nel muscolo ma pare uguale anche nel tessuto adiposo i vantaggi sono sono minimi o non ci sono dall'altra parte secondo me il fattore chiave e su questo l'ho detto l'altro giorno in una storia instagram mi hanno fatto diversi commenti sono andato a vedermi un po di ricerche è la capacità mitocondriale perché per esempio tanti obesi hanno una buona sensibilità insulinica e uno diceva scusa il grasso non era inversamente proporzionale alla sensibilità insulinica eppure noi abbiamo obesi con una buona sensibilità insulinica e abbiamo persone magre con una resistenza insulinica quindi non sempre la percentuale di bf è correlata alla sensibilità o la resistenza insulinica questo è il primo fattore il secondo fattore è la capacità mitocondriale per cui per esempio si è visto che un'alta capacità mitocondriale permette di mantenere buona la sensibilità insulinica a prescindere dalla bf quindi anche nel momento in cui i tessuti incominciano a captare e a riempirsi di trigliceridi sia ad ipocitari sia intramuscolari chi ha una buona capacità mitocondriale preserva la sua sensibilità insulinica e il problema che questa capacità mitocondriale con test normali le persone non lo possono misurare e la capacità mitocondriale è un'altra di quelle caratteristiche principalmente genetica quindi si puoi fare it poi a sudare a correre però magari uno ha una capacità mitocondriale migliore della tua da sedentario e quindi anche lì la capacità genetica prevale sugli adattamenti che noi possiamo cercare di dare con l'allenamento infine ricordiamoci che con un eccesso energetico normalmente se non la sensibilità insulinica l'infiammazione silente aumenta e questo va a peggiorare la capacità del muscolo di captare i nutrienti con un deficit energetico invece migliora affinché rimaniamo in certi range tutto questo per dire che è estremamente complicato parlare di questa roba qua proprio perché noi e io quando ne discuto con angelo fascio che è un medico ricercatore lui dice ogni volta che mi parli di queste cose muoio perché stai parlando di cose che non ne capisci niente e cerchi di di correlare diversi fattori senza avere realmente le capacità per per poterli spiegare ecco quindi io vi ho vomitato addosso un po di cose su cui riflettere senza senza avere una reale soluzione se non come dicevamo all'inizio della diretta prendetevi dati alla bf a cui siete quando mettete aumentate le calorie state migliorando la massa magra la massa grassa è quella per voi è la risposta se la strada giusta oppure no poi che ci sia una migliore o peggiore sensibilità insulinica è sempre il risultato l'unica cosa che conta sì diciamo che per esempio se noi prendiamo un atleta riduce da una competizione di bodybuilding a una percentuale di grasso molto molto bassa si penserebbe che questo qua una sensibilità insulinica talmente elevata per la per la bf così bassa che è nel momento migliore per iniziare una fase di bulk e quindi un eventuale surplus energetico va subito tendenzialmente ad essere dirottato verso la massa magra in realtà non è così non è così perché comunque il corpo fisiologicamente parlando in uno stato di carestia ha bisogno di ritornare a un grasso fisiologico e quindi ad avvicinarsi sempre di più al set point soggettivo della persona e quindi per esempio questo è già uno scenario che fa capire come tendenzialmente anche quando la percentuale di grasso è sub fisiologica e si ha magari una buona sensibilità insulinica sulla carta il partizionamento calorico non è non è ottimale viceversa una persona che ha una bf molto molto alta facciamo un 20 22 per cento per l'uomo è vero che ha una sensibilità insulinica intaccata ma non è vero che per esempio tutto l'eccesso calorico che va a mettere non gli consente comunque di aumentare anche la propria ipertrofia muscolare diciamo che il rapporto tendenzialmente si sbilancia sempre di più verso l'accumulo adiposo quindi secondo me come concetto pratico potremmo dire che quando noi siamo a ridosso del nostro set point che è anche soggettivo della persona possiamo secondo me poter dire di avere un partizionamento calorico abbastanza abbastanza buono nel senso che abbastanza buono per chi ha per chi ha una buona genetica perché il problema è che il tuo set point è a favore del tessuto adiposo il tuo stato naturale ti porterà comunque sempre a dirottare buona parte di quello che metti sul tessuto adiposo e lì purtroppo è genetica perché nel senso per esempio eric neri che è il nostro referente del calistenics lui mangia di merda mangia di merda e la gente dice ma come fa a essere così grosso che mangia di merda e sì ma lui è sempre stato geneticamente con un tessuto muscolare cioè lui ha sempre avuto il partizionamento da quando è ragazzino verso il tessuto muscolare e non verso quello adiposo i suoi adipociti sono molto silenti e sono poco affamati e quindi a prescindere che lui mangi il kinder bueno e delle schifezze o quello che mangia o lo ossida o comunque lo butta sempre nel muscolo però lui è così ti trovi soggetti senza muscoli con la pancetta che si allenano si allenano si allenano ma quello che mangiano il tessuto lì diposo lì è sempre affamato chiaro ma per esempio se ti arriva da te un soggetto al 15 per cento di bf facciamo e ti dice cosa faccio taglio per scendere non so l'undici il dodici oppure inizio la fase di bulka al quindici tu che cosa gli rispondi allora io quello che gli rispondo è vediamo a quante calorie sei e vediamo da quanto tempo sei al 15 per cento perché se tu sei al 15 per cento e fino a poco tempo fa eri al 20 sarà difficile tagliare ulteriormente cioè anche tre punti percentuali e magari ci costano un sacco di fatica oppure se tu sei al 15 per cento ma assumi poche calorie cioè che cosa che cosa tagliamo ulteriormente quindi in generale io sarei propenso per tagliare al 15 per cento però guardando questo 15 per cento prima che cos'era perché magari prima lui era al 13 e allora tornare al 13 12 11 per lui è facile quindi è sempre un attimo vediamo il soggetto a quante calorie sta e il suo 7 7 link point dov'è e in base a quello scegliamo qual è la strada più facile d'accordo io farei questa strada qua condivido condivido va bene andrei io come sempre ti ringrazio per il tuo tempo e per la tua disponibilità ragazzi se siete giunti fino a questo punto saprete che è disponibile ormai da tempo la nostra acropoli invictus che la nostra rivista digitale a cadenza mensile dato che andrea qua con me quest'oggi lascia lui la palla per insomma dirvi un attimino di cosa si tratta io come sempre lo dico sempre però dato che abbiamo il creatore la lascio a te l'onore l'onore di casa velocemente l'acropoli invictus è un ottimo modo per rimanere aggiornati risparmiando tempo e avendo la letteratura di riferimento nel caso uno vuole approfondire questi temi quindi noi quello che facciamo è prendere gli studi più importanti che escono se ne discutono cerchiamo di dargli una connotazione pratica i limiti cerchiamo di prendere non so adesso stiamo facendo una raccolta di tutte le evidenze scientifiche sugli integratori e vi facciamo risparmiare tempo dandovi gli aggiornamenti quali sono gli integratori che hanno il semaforo verde arancione o rosso e è un modo per rimanere aggiornati con i temi di cui parliamo risparmiando tempo tra l'altro prima facevamo delle dirette settimanali le persone ci hanno chiesto una frequenza più rarefatta ma di approfondire quindi siamo passati a fare una diretta al mese ma della durata di due ore con più relatori in modo da avere dei webinar associati alla rivista più approfonditi con tutta la pratica sul campo ecco questo è l'acropoli invictus e quindi chi è interessato secondo me fa un investimento per migliorare con il miglior rapporto tempo speso e informazioni recepite ottimo perfetto va bene ragazzi io come sempre vi ringrazio per il vostro tempo per la vostra attenzione vi ricordo che tutti questi episodi se li state visionando su youtube sono anche disponibili in formato mp3 sulle principali piattaforme di podcast in quali spotify apple podcast e ancor avete comunque tutti i link in descrizione video ringrazio nuovamente andrea e vi do appuntamento a un prossimo episodio grazie a tutti e buon proseguimento ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti